mettono a segno un attacco informatico da milioni di dollari e si danno alla vita di lusso, non sapendo però di essere finiti nel mirino delle forze dell'ordine italiane e francesi che li arrestano. Si tratta di quattro esponenti di un sodalizio criminale dedito a crimini informatici e riciclaggio, capace di sottrarre criptovalute per un valore di circa 14 milioni attraverso un cyberattacco sferrato ai danni di un exchange con sede nelle Cayman, operazione connotata da una grande complessità tecnica. Per questo gli agenti della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e di Salerno, congiuntamente ad operatori della Direzione della Polizia Giudiziaria Francese, hanno dato esecuzione a due mandati di arresto europeo e quattro decreti di perquisizione locale e personale nei confronti dei quattro uomini, tutti di origine straniera. Le indagini realizzate con servizi tecnici, appostamenti e pedinamenti hanno consentito di localizzare gli indagati all'interno di una villa di lusso nella provincia di Salerno, ma gli hacker erano in Italia già da diverse settimane, nelle quali si erano dedicate alla bella vita. Sardegna, Isola d'Elba e Costiera Malfitana, le location frequentate, dove i malfattori si sono dati a spese folli, tra ristoranti raffinati, voli privati, yacht e auto di grossa cilindrata con annesso autista. I due destinatari dei mandati di arresto sono stati condutti alla casa circondariale di Salerno, mentre gli altri due soggetti del gruppo criminale sono stati indagati in stato di libertà, sequestrati codici e chiavi private di accesso a portfogli virtuali di criptovaluti, chiavetta ledger, nonché diversi dispositivi informatici.